Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi, 26 dicembre, la Chiesa celebra la festa di Santo Stefano, protomartire, protos primo martire della Chiesa, che ha testimoniato Gesù con la sua vita innanzitutto, manifestando in mezzo al popolo la gloria di Gesù, conviendo prodigi, dando segni che manifestavano come la fede in Gesù si rivelava esterolmente con la rivelazione della sua gloria, l'annuncio del suo Vangelo, ma anche e soprattutto la partecipazione al suo Santo Spirito. Stefano vede la gloria di Dio accanto a lui, la gloria del Figlio di Dio e lo manifesta apertamente. Questo naturalmente suscita, secondo la parola del Vangelo, gelosia, invidia, ira, al punto tale che Stefano viene preso, processato e poi lapidato crudelmente, e lui muore, non alla maniera di chi è peccatore, ma alla maniera del Figlio di Dio. muore, dicendo, Signore Gesù, non imputare loro questo peccato. San Luca, descrivendo il martirio di Santo Stefano, ricalca la descrizione del martirio di Gesù Cristo, che dal lato della croce perdonò i suoi crocifissori, e, altrettanto fa Stefano, perdona chi lo sta uccidendo, e Gesù dice, dall'alto della croce Padre, nelle tue mani, affido il mio Spirito. E Stefano, trattando, Signore Gesù, accogli il mio Spirito. Perché la vita di Stefano è la vita di Gesù. La vita che Stefano ha ricevuta da Gesù è la stessa vita, lo stesso Spirito. E per questo, allora, vediamo in Stefano l'immagine di Gesù Cristo, e vediamo in Stefano anche l'immagine della Chiesa, che continua l'opera di Gesù Cristo in questo mondo. Chiediamo allo Spirito Santo di rivelare a noi il volto del Figlio di Dio, come ha rivelato a Stefano. «Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione, e rinnoverai la faccia della terra». Spirito Santo, che ha rivelato a Santo Stefano il volto di Gesù nella sua gloria, rivela anche a noi il volto di Cristo, che è l'irradiazione della gloria del Padre. Nel volto di Gesù si è manifestato il volto di Dio a tutti gli uomini, per cui Gesù ha potuto dire «Chi vede me, vede il Padre, chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». E ogni cristiano è chiamato a testimoniare Gesù Cristo come Stefano, innanzitutto con la sua vita, con la santità del suo comportamento, con la fede in colui che tutto può, in colui che è nato dalla Vergine Maria, è morto sulla croce per i nostri peccati, ed è risolto nella gloria, e ora vive come il Sovrano del Cielo e della Terra, ed è destinato dal Padre a tornare in questo mondo per instaurare il Regno di Dio, dissolvendo ogni potenza satanica, ogni potenza di peccato, e manifestando la gloria di Dio, a cui sale ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La Chiesa, fratelli, secondo la tradizione ebraica, alle feste principali aggiunge un ottavario, un'ottava, cioè la festa continua per otto giorni, così avviene per la festa del Natale, oggi è il primo giorno dell'ottava di Natale, e questa festa continua fino al primo gennaio, tutti i giorni per la Chiesa è Natale, perché questo prolungamento? Per assimilare la ricchezza del mistero che viene celebrato. Quando noi riduciamo il tutto a poche ore, le cose si perdono in fretta, invece il mistero celebrato deve essere contemplato a lungo, almeno per otto giorni, e la Chiesa fa così, per cui la liturgia di questi giorni, pur celebrando delle messe particolari, oggi Santo Stefano, domani San Giovanni Evangelista, poi i Santi Innocenti, ma sempre nel clima del Natale, e la liturgia delle ore, ai Vespri, ci fa celebrare la festa di Natale, che continua ad essere al centro della contemplazione della Chiesa. Al centro c'è Gesù, figlio di Dio, così quando noi celebreremo la Santa Pasqua, per otto giorni si continua a celebrare la festa di Pasqua. La festa di Pentecoste, anche se una volta era seguita da un ottavo, un ottovario di preghiera, ma la Chiesa preferisce anticipare questa ottava nella novena di Pentecoste. Anche altre feste, anticamente erano seguite da questa ottava, e la liturgia, la riforma liturgica ha semplificato, ma vale la pena vivere intensamente la realtà del mistero che viene celebrato. Allora oggi, pur festeggiando Santo Stefano, la Chiesa ci mette davanti il mistero dell'ingherlazione del Figlio di Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Nella prima lettura di oggi della Messa la Chiesa ci racconta dagli atti degli Apostoli il martirio di Santo Stefano. Gli Apostoli, non potendo provvedere alle necessità della prima comunità, decisero, sotto l'esperazione dello Spirito Santo, di nominare sette diaconi. Questi diaconi dovranno essere persone piene di Spirito Santo, che avevano equilibrio, che avevano carità, e che potessero quindi essere collaboratori degli Apostoli, i quali, vedete, nel nominare dei collaboratori, non cercano persone di alto lignaggio o famose, ma che fossero ricche di Spirito Santo, animate da ricchezza di Spirito Santo, da doni di Spirito Santo. E tra queste ci alleva Santo Stefano, che operava prodigi in mezzo al popolo. Per questo fu preso di mira dai suoi avversari e lo condossero davanti al Sinedria, accusandolo di bestemmiare Mosè contro Dio, fino a che fu martirizzato, come visto, e lui morì alla maniera di Gesù, perdonando e invocando misericordia sui suoi uccisori e consegnando la sua anima a Gesù Cristo. E l'Evangelo da San Matteo da che si presenta l'ammonizione di Gesù, che invita i suoi apostoli a testimoniare la fede in Lui, ma senza pretendere di ottenere successo, di affidare ogni cosa allo Spirito Santo. Dicevo, quando vi porteranno davanti ai tribunali, non preparate prima la vostra difesa, perché il Padre vostro che è nei Cieli parlerà per voi. Signore Gesù, guarda la Tua Chiesa oggi che in tanti luoghi di questo mondo è in grande difficoltà per le avversità che deve affrontare. E Tu sei presente, e dove la Chiesa è perseguitata abbiamo sempre la moltiplicazione delle conversioni. Lo Spirito Santo fa sentire la Sua potenza al di là delle forze avverse. Signore Gesù, oggi manifesta questa potenza in tutti quei Tuoi discepoli che in tutte le parti del mondo stanno sostenendo prove, a volte anche cruente, nel testimoniarla a fede in Te. Riveli loro la Tua santità, la Tua potenza, e fa che le loro sofferenze unite alla Tua passione siano sorgenti di fede e di salvezza per tanti. A Te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ricordiamo, fratelli, che in Cimna la gran parte dei cristiani si sono moltiplicati proprio durante la persecuzione. Quando ci fu la rivoluzione di Mao, le conversioni si moltiplicarono, il Signore faceva prodigi e ha tirato tante alla fede. Vergine Santissima, che sei madre della Chiesa, madre dei testimoni di Cristo, sei stata la prima testimone di Gesù, accogliendola nel tuo cuore, nel tuo grembo e donandola al mondo, fa che ciascuno di noi annunci Gesù con la propria vita, con coraggio, con potenza e di Spirito Santo. E la luce di Gesù conduca tanti a salvezza, allo degloria del Figlio tuo che ha dato se stesso per noi e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore faccia di ciascuno di voi, fratelli, un testimone di Gesù, testimone verace e potente nel nome di Gesù. Amen.